...45, Giorgio Pini, un intertoppo, Asia Manti, 46... Si può partire al play-all direzione, è iniziata AC Lifestyle Erich contro Cassano Magniago, in palio la 33esima Coppa Italia della Palamaro Femminile. Grande uno contro uno di Karej Maiko che sblocca subito il punteggio. Si torna nuovamente verso Barbosu, buona la superiorità numerica creata e arriva il primo gol della partita. Il tiro dalla distanza, gran gol, questo di Karej Maiko. La finta di Gozzi che arriva sui sei metri, rimane in aria, prende la mira e buca sul primo palo Ramazzotti. L'attacco di Barbosu dentro il dialogo con il pivot, pallone che arriva a Manfredini, che è sempre molto brava. Poi Erich che prova ad approfittarne in situazione di superiorità, campo aperto e il gol di Giulia Losio che trova l'accelerazione. Prova a Barbosu, la palla giocata per Gozzi che vede luce avanti a sé e va a segnare di rapina questo gol di Giulia Gozzi. Tarbuk, iniziativa personale per andare. La AC Lifestyle Erich vince la Coppa Italia 2024, seconda Coppa Italia consecutiva per la AC Lifestyle Erich che ribadisce il dominio. La AC Lifestyle Erich vince la Coppa Italia 2024, seconda 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 Coppa